Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di dedicare un'intera giornata alla lotta contro la violenza sulle donne. È stata scelta la data del 25 novembre, quindi in questa data in tutti i paesi vengono organizzate le manifestazioni e in alcuni paesi anche dei premi nei confronti delle donne che per un motivo o per un altro sono riuscite a sopravvivere alla violenza. Io sono Lidia Vivoli, ho 49 anni e nel 2012 sono sopravvissuta a un tentato omicidio e sequestro da parte del mio ex compagno. Ce l'ho fatta a sopravvivere non solo fisicamente ma anche a ricostruirmi una vita perché sono del parere che noi donne abbiamo il diritto di vivere serenamente ma molti uomini non lo pensano e quindi ho avuto l'onore di ricevere tanti premi ma quello che mi sta di più a cuore è il premio internazionale semplicemente donna che ogni anno vede premiate tante donne nelle splendide cornici della provincia di Arezzo. Questo premio fortemente voluto da Angelo Morelli e Chiara Fatai e dalla presidente giuria Patrizia Macchione premia non soltanto donne che si sono distinte in imprenditoria, dal punto di vista sociale, in diverse attività ma da qualche anno anche degli uomini perché anche gli uomini sono vicini a noi in questa lotta perché se ci sono gli uomini violenti ci sono tantissimi uomini che sono meravigliosi. Questo premio è importante per tanti motivi sia da un punto di vista sociale, culturale ed educativo in quanto tutte le premiate e anche i membri di giuria durante i tre giorni della manifestazione vanno a incontrare i studenti e parlano delle loro esperienze a loro ma poi perché non finisce lì non viene dato il premio e noi non ci vediamo più anzi io sono andata a far parte della giuria, ho avuto questo immenso onore e l'onore anche di diventare ambasciatrice del premio e quindi ogni anno ci siamo visti per portare avanti la nostra lotta quest'anno non sarà possibile purtroppo incontrarci causa Covid ma questo non vuol dire che l'affetto e il rispetto non rimane invariato ma anche la nostra lotta anzi si fa più forte in questo periodo in cui molte donne sono costrette a stare chiuse in casa con l'uomo che può usare le violenze di tutti i tipi dalla violenza psicologica, fisica, economica non esistono soltanto pochi tipi di violenza perché finché una donna non sarà libera di lasciare il proprio uomo finché una donna non sarà libera di decidere serenamente per la propria libertà, per la propria vita ecco non potremo mai mettere un punto di fine a questa storia quindi la mia lotta e la lotta di tutti noi è quello di poter far sì che ogni donna abbia il rispetto e la dignità che merita ogni essere umano e con la speranza di abbracciarci tanto il prossimo anno o quanto meno quanto prima io vi mando un caro saluto dalla Sicilia e spero di vedervi presto, grazie